Un gruppo di turisti svizzeri e tedeschi che viaggiavano a bordo di un catamarano sul Po si sono arenati all'altezza di Calendasco nel Piacentino, di fronte al Guado di Sigerico. La comitiva, composta da 15 svizzeri e un tedesco accompagnati da una guida, ha percorso l'idrovia scendendo in Italia dal Lago Maggiore. Giunti ai navigli di Milano, ha proseguito in bicicletta fino a Pavia. Poi in autobus fino al Guado di Sigerico, dove i turisti sono stati attesi da un catamarano proveniente da Cremona ma martedì 20 agosto appena partiti si sono incagliati. Li ha soccorsi un barcaiolo del posto insieme ad altre persone. Il gruppo con la forza delle braccia ha spinto l'imbarcazione fuori dalla sabbia in cui era incagliata, la stessa dopo ha proseguito il suo viaggio.